Ciao amici e ciao amiche, in particolare a voi è dedicato questo video di oggi. Come sapete all'inizio di ogni mese apro le candidature per poter partecipare al mio ormai famoso percorso olistico di magrire in salute e senza dieta. Siccome molti mi chiedete di cosa si tratta e come fare per partecipare, ho pensato di girare questo video per voi. Buona visione! Ciao, ma hai paura di dimenticarti qualcosa? Come dimenticarmi? Simona non capisci niente, qui io sto facendo un esperimento scientifico, sto studiando come dimagrire con la mente. Ah, interessante! E come funziona? Mi sono messa sulla testa tutte queste parole che influenzano la mia mente e mi fanno dimagrire. Pensa, sono già la terza settimana. Ma quanti chili hai perso? Beh, persi zero, guadagnati tre. E il fatto è che penso solo al gelato, 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 gelato. Allora amici, anche voi credete che il potere della mente sia fondamentale per poter dimagrire? Lo credo anch'io. Ma fate attenzione a questo che sto per dirvi. E arrivate fino alla fine di questo video, mi raccomando, perché ci sarà la soluzione per voi. Normalmente ci fanno credere che basta usare il pensiero positivo o la visualizzazione per riuscire a dimagrire. In realtà, vi dico per esperienza, che non basta pensare voglio dimagrire, voglio dimagrire, voglio perdere tutti i miei chili di troppo, per vedere scendere i chili di troppo. Non funziona così, mi dispiace deludervi, ma i risultati non arrivano in questo modo. La mente, sicuramente, è decisiva per ottenere i risultati quando si tratta di perdere peso, ma va usata come una chiave. Girando la chiave verso la giusta consapevolezza e il giusto approccio mentale, imparerai a Scegliere i cibi adatti a te, decidere cosa comprare e cosa evitare quando vai al supermercato, toglierti le soddisfazioni senza rovinare la linea, anzi, mantenendola. Godere di uno stile di vita pro dimagrimento, dedicare il giusto tempo all'esercizio fisico, praticare la meditazione e tanto altro ancora in questo percorso olistico nel quale staremo insieme per ben tre mesi. Perché è la mente che coordina tutte queste scelte e se giri la mente nella direzione sbagliata, ti troverai a pensare sempre al cibo, alla dieta, alle privazioni, alle frustrazioni, al senso di colpa e non va bene, non si può vivere così. Invece, se con la giusta guida giri la mente nella direzione corretta, puoi trasformare la tua vita in meglio perché ti farà agire nel modo più sano a favore del tuo benessere e del tuo dimagrimento e non più contro. Rimettendoti in perfetta forma, senza ricadute, con una energia super positiva e nuove abitudini che adorerai, come ti fanno sentire e che vorrai mantenere sempre. Esattamente per questo ho creato il mio percorso olistico dimagrire in salute senza dieta. Già moltissime persone hanno ritrovato salute, energia, forma fisica, dimagrimento e ancora piacere nel mangiare e nel muoversi con più agilità e leggerezza, contente di stare dentro il proprio corpo. Sentite cosa dice Rita, che sta facendo il percorso. Qual è la differenza tra il metodo che stai facendo adesso, che stai seguendo, dimagrire in salute senza dieta e quello che hai fatto prima? Che differenza c'è tra questo metodo e quello che viene proposto normalmente? Allora, guarda, come già accennavo prima, Simona, la differenza sostanziale è che nel tuo metodo si guarda veramente a 360 gradi, quindi comunque alla globalità della persona è un metodo olistico, quello che tu proponi. Mentre invece il metodo tradizionale ti mette la grammatura, ti punta solo ed esclusivamente su quella che è la nutrizione. Ma poi che nutrizione? Punto di domanda. Perché se per fare una colazione, alle mie tristi colazioni, te lo dico sinceramente, quando ero sotto dietologo, non dopo, ma quando ero sotto dietologo, avevo il tè, avevo, dovevo mangiare o delle fette biscottate, ma che non potevano essere più di due, non avevo possibilità di dolci, il pane calibrato 30 grammi, io adesso il pane neanche lo cerco con te, Simone, Simona, quindi questo, cioè, dico, caspita, non cerco il pane, è diverso, è diverso, decisamente. Poi comunque nel barattolone ci sono tutti i cereali soffiati, caspita, vado a nozze proprio, sono contentissima. Quindi lì è proprio un'attenzione mirata a diminuire con una dieta tradizionale, ma senza soddisfazioni, con privazioni, sei sotto stress, non vedi l'ora di finire questa dieta, per dire, oddio, vado a rimangiare normalmente perché così non ne posso più, potrei mangiare un bufalo nel momento in cui chiudo con la dieta tradizionale, mentre invece qui non ho nemmeno, cioè, uno non ho la motivazione per dire aspetto che finisca, cosa finisce? Qua non finisce, perché comunque sono solo all'inizio di un percorso che già ora mi sta gratificando. In questi tre mesi di programma seguo i partecipanti personalmente, ci sentiamo una volta alla settimana e nasce anche un bellissimo rapporto di sostegno e di supporto. Lo dice anche Barbara nella sua testimonianza. Tante ricettine da seguire, tante belle cose, belle, belle. Sì, perché questo percorso non prevede solo un'impostazione di uno stile alimentare come abbiamo fatto, ma ci sono anche tanti contenuti che vengono rilasciati ogni settimana e quindi ogni settimana c'è, no, Barbara, una specie di lezione o c'è una videoricetta, c'è la videoginnastica, la meditazione guidata. È proprio, io l'ho preso come un corso, diciamo, no, tra virgolette. In ogni settimana c'era una cosa nuova da studiare, poi inserire, conoscere e poi applicare. E pian pianino tu formi la tua personale. Certo. Poi dopo con te, no, guarda che non è così, hai capito male, bene, è preferibile così, piuttosto che cos'ha. Anche questo incontro settimanale nostro è stupendo, perché poi diventa un'amicizia, no? Sì, 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 era troppo bello, troppo bello, veramente. Io consiglierei a tutti questo corso proprio, questo corso, ormai lo chiamo corso, Simona, non ce la posso fare. Bene, se volete ascoltare anche altre interviste, le trovate nel link in descrizione. Vale la pena sentirle, sono molto interessanti. Ora però seguite bene quello che ho da dirvi. Ho girato questo video per dirvi che all'inizio di ogni mese apro le selezioni per fare entrare 5 nuove persone nel programma, per poterle seguire di persona e rispondere giustamente a tutte le domande che nascono durante questo percorso di trasformazione. Il contatto diretto con me è anche fondamentale per mantenere alta la motivazione e non perdere mai la direzione e gli obiettivi che si sono prefissati per arrivare alla fine di questo programma con molti chili in meno. Sappiamo molto bene che oggi come oggi è molto facile perdersi durante un percorso e più spesso per un eccesso di informazioni piuttosto che per una mancanza di informazioni. Quindi se vuoi candidarti per farti seguire da me personalmente, leggi subito le istruzioni nel link della pagina. Così potrai prenotare una call telefonica con me. Parleremo di persona per verificare se il mio programma è adatto a te e se tu sei adatta al mio programma. Voglio solo persone seriamente motivate a raggiungere le più alte vette di benessere e i migliori risultati in termini di perdita di peso. Proprio come Rita e come Barbara perché voglio trasformare anche voi, anche le prossime persone, nelle mie migliori testimonial di questo sistema olistico. Quindi cliccate sul link qui sotto e ci sentiamo presto al telefono per una call personale per dare il via a questo percorso esclusivo riservato a pochi, piacevole da seguire, da condividere con me, con cui ottenere una vera trasformazione e non solo in termini di peso. Vi aspetto per la candidatura del percorso di magrire in salute e senza dieta. Naturalmente. Ciao!